Se mi ricordo come si fa allora Sul primo server troppa gente Sul secondo ce ne stanno 285 con limite Ok Sì Ragazzi non mi ricordo più perchè questo qua non è L'online che giochiamo sempre noi Con l'azienda Questo qua è proprio l'online online Cioè quello là dove giochi con altre persone Cioè no? Quello che percebe da 8 player E buonanotte Poi invece è quello là dove stanno Tutte le persone Poi c'è anche la chat vocale con gli altri Non è che da noi non c'era C'era pure da noi però l'unica cosa che magari qua Appunto è di più Ma io voglio capire una cosa ne Se io la telecamera la metto così È di meno o di più? No è di meno Un attimo solo allora Così dovrebbe essere di più Sì ok così è di più No non mi interessa Ok Quindi accendiamo subito questo cambio Accendiamo le luci E poi appunto vediamo dove ci fa andare E stai fermo che devo vedere Sì ma io mo c'ho la freccia qua a sinistra raga E non la posso più staccare Per staccare la freccia dovrei collegare Sto mouse C'è solo joystick Che non è buono a niente Per staccarci la freccia Non si stacca Staccare la freccia un attimo Aspettate raga devo staccare un attimo Staccare la freccia Non ci staccare la freccia Che non è buono a niente Oh ok vediamo un attimo benz poi si parte e si vede dove andiamo raga ok ok andiamo a vedere se qua c'è qualche cosa si parlava con il tablet ma com'era per parlare ma con la X allora lavoro autonomo vediamo un po' appunto da qui ce ne possiamo andare o in Slovenia ah andiamo in Romania ragazzi ce ne andiamo in Romania io la radio la stacco perché tante volte queste persone dicono parolaccio quello che sia e a me non mi interessano queste persone così tutto è pronto e meno male che possiamo partire voltare a sinistra a sinistra le frecce no ragazzi perché il joystick purtroppo ce lo guasto quindi alla rotatoria prendere la prima uscita uscire adesso mezzina mezzina siamo col pieno quindi io voglio come se uscire adesso Grazie. Così ce ne andiamo bel piano piano. Grazie a tutti. Grazie. 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 Tenersi a destra. Grazie. 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 mi raccomandi ma questa non l'hai tirato più no eh pure questo viene staccato no amo no devo fermarmi qua porco due ho attivato i due comandi aspetta adesso ma non mi posso fermare questo è quell'altro adesso questo è l'online però non è che siamo solo io e basta con le macchine qua siamo noi qua altre persone come noi aspettate ragazzi ma ci ho dimenticato di di attivarli e ha ragione mannaggia tutti i riavoli mannaggia dove è ramosta cosa che qua qua infatti eccolo qua tasto qua destro copia fingi nuovo turbo qua no spietta un attimo che so vediamo se lo attiva è perché ha già combinato il macchiello primo vediamo vediamo perché spietta Forse voi lo potete fare io No Vediamo un attimo quell'altro Sparo Aspetta Aspetta Perché ha messo il ciclo qua? A me se sto 5 Voglio capire Fai ma Questo Che ti è detto Minus 4 Si è già ingassato 0 Oh Ehm E qua Qua se non sbaglio Dovrebbe essere 0 E' 0 E' 0 qua Rim Però dopo devo vedere Se voi con i punti Se lo potete sbloccare Perché è inutile che Metta ste cose Ehm Ehm Eh va buono ti divirti proprio a moro un bro casp Ricciardo eh cazzo in brocchie Cioè poi se non si sente il like Perché Vabbè raga Allora continuiamo Comunque che so sto qua Se scrivete vi rispondo Voglio fare sta cosa carina ma purtroppo Niente proprio manco questo qua funziona E' un poco strano eh Oh Io non ci posso rinunciare Non posso rinunciarci Perché so che funziona Perché devi fare così Eh boh Perché da fare così Eh mo si è scollegato proprio Allora Allora Non mi rompe il capo Tu devi fare come dico io E' impossibile che non vanno Cioè Boh raga E' un poco strano eh Boh Cioè prima è andato Boh Boh Non va Pricimo qua Togliamo qua Mettiamo 0 Può essere questo Salva qua Boh Cioè è strano raga Mi sto pure arrabbiato Perché questa è una cosa Che dovrebbe andare Eh basta Cioè i team save E cioè i lifetime So salvati Cioè dovrebbe andare Ah perché perché ma non va così Cioè questa devo chiedere Un amico mio Che anche lui stream E dovrebbe chiedere perché Prima andavano ma non vanno Cioè dice che non c'è Found you canse I al Cioè come se non Presentasse Che non ci esiste Sto cosa Quello dice Tra l'ora Però il problema Che ci sta Apriamo il negozio Effetti sonori Non c'è infatti Perché Se vado negli effetti sonori Non ci sta Non me lo porta Ed è strano Ed è strano ragazzi Dovrebbe starci Attiva Eh attiva pure questo Eh allora Pochi Articoli Riscattabili Niente Aspetta Ragazzi Che mom Momencazzo Eh Che ci stanno Qua dice Che ci stanno Ah ecco Riscatta articolo Fantastico Fantastico Regolarmente Se io vado a fare Puntino Esclamativo Turbo Automaticamente Dovrebbe Andare E infatti Sì Però ragazzi Poi queste cose Dovremmo mettere Con i soldini C'è Con le donazioni Qualche cosa Buono lo so Vabbè Continuiamo Dai Continuiamo Dai 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 Ci perdiamo A chiacchiere Chi c'è in live Prendiamo l'autostrada Direzione Firenze Ops Posso Che non c'è nessuno Vado Presente Allora Tesoro Amore mio Ti spiego Per fare anche tu Quel suono Devi fare il puntino Esclamativo Tutto attaccato Mi raccomando Puntino Esclamativo Turbo O puntino Esclamativo Sparo Tutto in piccolo Che poi dopo Dobbiamo vedere Come metterli Con I punti canali Capito Che queste cose Pure sono carine Chiope da sorata Eh Così Se no Sai che ti dico Li lasciamo gratis E sti gabbi Così almeno qualcuno Però dopo Eh Poi vediamo Eh basta Ah Eh ciccio Pensavo che eri te C Uscire 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 a destra Ok Andiamo a destra Ciao ciccio Ho fatto una leggera La ghettina Mi sembra Boh Che se non sbaglio Mo li possiamo Anche aumentare Cioè possiamo Anche Alzarci il volume Una cosa simile Se trovo Un'area di sosta Alziamo ancora Il volume Così eventualmente Qualcuno Mova Quando sto In movimento Anche Sì Un'area di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giustamente le persone che hanno partecipato alla live, posso vedere, non le persone che non partecipano. Allora, qua ci dovrebbe stare una ridisosta che vorrebbe aumentare ancora il volume di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo un attimo a fare una cosa. Se non erro si fa così, però no, da qua. Ah, perché questi qua li devo mettere in modo che si attivano. Sì. Questa è una cosa dove si aumentava, ah sì, questo è già 100. Questo quant'è? Andiamo un attimo. Eh, sono tutti e due 100. Sono già tutti quanti due al massimo. Presto. Ah. Ah, aspettate un po'. Forse, secondo me, qua possiamo metterci addirittura l'immagine. No, vabbè, anche la neve. Sì. Allora, aspettate un po'. Allora, aspettate, raga. Ce l'ho qualche immaginina? No, non ce l'ho. Aspettate ragazzi, perdonatemi due secondi. Allora. Salvo quest'immagine. Qua. Ok. Perfetto. Dov'è abbostato questa cosa? Qua? Com'era? Così? Da una fessa da solo. Da un magiscultato che non... Vedi, so, ci vai giù. Ah, ma sei stato tu? Io pensavo che ero stato io quando ci ho cliccato sopra. Te pozzino falove. Va cacava. Che stavo in casa a non comprare. Ah, fa un guscio per questo ciccio. Ma tu metto pauris, ma cimmo. Questa è facendo una cosa. Ma non so, sta immaginando. Non ce l'ho scuritato. Che stai facendo? Ehm... Illustrato. Non penso che sia questo. Oggi è 16.1? No, oggi è 17.1. Quindi è questa. Submit. E salva. Ragazzi, io penso... Che adesso, quando fate la turbina, che è quell'altra... Vi dovrebbe uscire l'immagine. Vediamo un attimo, ragazzi. Ho delle prove che purtroppo faccio il live. Perché tanto... Sti gabbi. Turbina. No, turbo. No, turbina. No. No, non esce. GG. Pensavo che usciva l'immagine della... Della turbina. Invece no. Andiamo, va. Andiamo, 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 andiamo. Eh, 1400... Ma io non... Ma io non mi fate bere l'acqua, che c'è il bicchiere con la bottiglia. Eh. Eh, vedete, c'è la bottiglia. Oh, a giù, gasp, dove vai? Comunque, datemi un consiglio. Tra Ciccio e... La mia ragazza, ne? Tutte e due messe insieme, ne? Mettetemi... Datemi voi un consiglio. Secondo voi, queste alert, questi sound, Li lasciamo gratis? O li dobbiamo mettere con una percentuale di punti canale? Poi ci... Eh, agilet... Gratis. Sì, va bene, dai. Casomai, dopo, raga, ci mettiamo un po', sentiamo qualche altro audio da inserire, perché tanto ho capito il meccanismo, come vanno inseriti, quindi è una figata metterli, quindi. Però fosse stato più carino se si poteva mettere pure l'icona che... Non so, se potrebbe mettere, ma non lo so fa' Ma che c'è l'ampeggiante di spendisura, no? Amma, come stai scioccando, vai giù! Ah... Hai giocato a Fortnite oggi, ciccio? Non ti ho messo proprio. Che puoi divertirti, spararti, anche se... Non sbandi, non muori. Oh, che sei a di? Oh, che sei a di? Oh, che sei a di? E... Ma non mi vedo più No, un po' che è perché è buio il gioco Purtroppo quando è notte è così Non c'è un'anima via Su stato strato Poi stiamo sul server 2 Stavano 250 player Quindi Oppure mi ricordo Non so se mi ricordo bene o male Mi sembra che stavo Eh, col ciccio pure stavo Se non erro, proprio col ciccio stavo Mi sembra che quando stava il fatto della neve Stava la neve pure per terra Però non so se forse è fuori d'Italia Che c'è la neve a terra Boh Non so se forse è fuori d'Italia Mi sembra è fuori d'Italia Un po' di noi Che torna di Sei Ce l' черna Vieni N'abbiamo beccati Duh, yeah Eh, me fa Ma c'era la neve giù, quando Fa l'opo, tu e quando ne tiene, pure tu Perché voi pensate, che io mi prendo in giro Ma l'audio è talmente alto nelle orecchie Che ha da scopo nel regge Eh, no, so Ha già letto stavolta, tie Ma dobbiamo mettere altre, raga Però hai un... Eh, basta! Basta, ciccio! Mi fa di urla, porca Non si può dire Non si può dire Ne dobbiamo mettere altre, raga Ma com'è? Sono una tacchetta sopra il mezzo pieno Minz Eh, basta! Ma mi fa sclerare, eh Devo mettere gli altri Così almeno cambiate ogni tanto E' analina, giù! Porco demonio Non mi fa sclerare Non mi fa sclerare Non mi fa sclerare Aspettate che non posso leggere la chat Ok, appo Io mi fa sclerare Per drogo carico Che vi faccio Siamo a Bologna Ma che cacchio Ma che brutta gioca Non mi fa sclerare Mannaggia Perciò non hai Risposto al saluto Ah, ok State parlando La radio Ah, ok Ragazzi dovremmo arrivare Tra la Bulgaria e la Romania In giorno Penso Perché comunque sono le 9 e 46 Stiamo passando tra Ferrara qua Quindi dovremmo Ecco Non so Ciccio, ma tu più tardi per Fortnite ci sei? Ah, no Ma avete rotto il bravo Non mi fa sclerare da voi Non mi fa sclerare Ho visto sti cose Ma non è che mi spavento ogni 3x4 Ragazzi giustamente Che comunque Me ne accorgo che sta partendo Dobbiamo mettere gli altri Yeah, yeah Sparo È sbagliato È sbagliato È sbagliato Eccola Oh Eh 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 Dolle Basta Ho Vecili Capizzo Eh Non posso manco urla Eh Ho capito Seppure tu modi ci metti a uscire adesso C'è capito Eh Sì, sì Quello là del turbo Se ve ne siete accorti È più alto degli spari Oici Stai per mettere sti cose Quando ci ha gemiso Due ore e mezza Per capire come si mettevano C'è un collega Eh Eh Le devo scaricare giù Le devo scaricare Cioè Devo trovare i suoni O vado sul sito Però non Non so quanti di loro sono gratis Perché alcuni sono a pagamento O dobbiamo O le devo cercare Sul mondo rosso Da 30-40 secondi Capito Infatti Questi due Vengono dal mondo rosso Direttamente Ma faccio sta live A fine live Mi metto un po' Vediamo un po' Ma io pensavo Che il bot aumentasse Di bo Ma che c'è Che c'è È sempre Gente dice Sono nel server 2 È normale Allora nel server 1 Nel 2 La velocità è sempre Questa Nel 3 Che l'arcade Invece è la velocità massima Che puoi raggiungere Non si vedo un'altra Non si vedo niente Quanta benzina Quanta benzina Ce l'ho Mezzo pieno Mezzo pieno 1000 Qualche cosa di benzinella La devo mettere Non ce la faccio Sono a 3600 Me la Chiesto ciccio Colpa su Ah 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 Te so Fa una cosa Fa una cosa Fa Slash Eh si va bo Puntino esclamativo Rulette Vedi se vi apre il gioco Vi dovrebbe aprire Un giochino Che Vi fa le sfide Tra di voi Vedi un attimo se te lo apre Slash Eh puntino Slash Punto esclamativo Rulette Cosa speri Giulio Ah non va Non va Non va No Devono sistemare Sparo Sparo No spero Sparo Eh che Oh Basta Info In Num dobbiamo girare a destra, giusto? no, ci dobbiamo girare a sinistra no, potevamo stare pure dritto tanto, la stessa cosa è 900 km non lo sapevamo, non lo sapevamo siamo all'altezza di Udine cioè io non ho fumato la sigaretta ho le mani che mi odorano di sigaretta bu ma che mi sposte Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Andare dritto. Grazie a tutti. Un attimo di benzina. Grazie a tutti. Oh, ma non si mette più di nevigare. Oh, ma non si mette più di nevigare. Grazie a tutti. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. va bene. Va bene. tranquillo. Ok. Ok. tenere dritto. Tenere dritto. Tenere dritto. Tenere dritto. voltare a sinistra. non si mette più di nevigare. 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 Disgraziata. non si mette più di nevigare. Andare dritto. Andare dritto. Non si mette più. Andare dritto. Andare dritto. Prepararsi a voltare a sinistra. 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 Andare bene. Meno di 500. Prepararsi a uscire a sinistra. A posto. Andare bene. E poi uscire a sinistra. Uscire a sinistra. Ok. Dai quasi 400 ragazzi. Siamo quasi vicino. Grazie. Tenersi a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Andate. 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 a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. E poi continuare dritto. E poi continuare dritto. Eeeh. Eeeh. Quanta mano. 250 Km. Aiuto. Non mi ero arrivati, ah. 250 Km. E' che so. Ancora roba di poco, aiuto. Andate. 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 E' che vele. Andate. Andate. E' che vele. Grazie a tutti. 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 Quasi è arrivata una parola grossa, stiamo ancora a 184 km, cioè 180 ne sono totali da fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho subito dopo mangiato, devo fare un attimo sto fatto che voglio mettere altre cose anche. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 100 km, dai. 100, ragazzi. 100, ragazzi. Ma sarà uno di questi paesi qua vicino comunque, perché sono 70, quindi sì, a forza, ragazzi. 70, 70, 70, 70, 70, 70 km, ragazzi. Sì, sì, sì. se è lasciato. Se è lasciato finestrino. Se è lasciato finestrino. uscire adesso. Ok. Se è arrivata, dai, 30 km quasi. Non è stato stancante, ragazzi. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto, mi è piaciuto sto viaggetto, ragazzi. Mi è piaciuto. Abbastanza carino, va. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. uscire adesso. Uscire adesso. Il camion. Il camion. Ragazzi, sto camion. In quante live avete visto? Ho usato sempre lo Scania. Quindi, in pratica, tutto sommato, una... su una decina di live, quindi in pratica una trentina di viaggi. Ha fatto quasi 40.000 km questo camion, ragazzi. Quindi l'abbiamo... E ho capito che devo girare a destra, eh. Non ti pensa che non ti ho capito. Mi hai rotto il trequarto di me. Ed è qua. Che roba è qua, raga? Siamo arrivati all'azienda, raga. Dov'è che te lo devo... Devo mettere questo bel camion? Ah! Non c'è un modo per... girarci là sotto senza che mi metta a fare tutto il giro dello stabilimento? Da lì non si può andare? Non. Non. No. Grazie. Grazie. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo... Allora, per fare 1847 chilometri ci abbiamo messo... Quanto tempo di live so, raga? Ce l'abbiamo messo un'ora e venticinque, ok? Su un'ora e venticinque di là, ci abbiamo messo un'ora e venticinque E al gioco ce ne volevano addirittura otto ore, noi ci abbiamo messo soltanto un'ora e venticinque Abbiamo fatto quasi la bellezza di 2k di chilometri, 1847 Abbiamo consumato un pieno, perché mi sembra che il massimo del Scania è 600 litri Abbiamo consumato 5,93, quindi in pratica è come se avremmo consumato quasi un pieno di benzina Vabbè, quasi il pieno intero, perché è mezzo pieno... Allora, abbiamo caricato a Napoli Poi, dopo Graz, abbiamo messo un mezzo pieno di benzina a Graz Quindi, ragazzi, c'è da fare... Eh sì, sì, raga, un pieno quasi, dai Perché comunque da Napoli siamo partiti col pieno intero Quindi mezzo pieno, ragazzi, mezzo pieno di benzina E niente, ragazzi, abbiamo guadagnato appena 69.000 euro per 2.348 punti di esperienza Quindi Ci si becca, in pratica, nella prossima live Penso intorno alle 21 Perché, ragazzi, dobbiamo sistemare un po' questi alert Anche per farvi divertire un po' Però, ragazzi, tranquillamente Se si possono un po' boostare Cioè, mettere dei punti Su alcuni li metteremo, ragazzi Perché comunque il canale ha bisogno di punti Anche per fare la sfida Che tra 30 giorni, appunto Ma meno 30 giorni Vedremo, appunto, chi è che ha vinto I due posti come moderatore e staff su Discord Quindi, ragazzi, vi già dico una cosa Allora Per adesso stiamo al 3% Del De questa soglia Giochiamo e vinciamo questa sfida Stiamo al 3%, ragazzi Quindi, in pratica Ne abbiamo per un po' Abbiamo fatto appena 3270 punti obiettivo Quindi, tra un po' Sbloccheremo anche questo Ehm Ehm Non lo so Ti dico la santa verità Non so Sarei interessato più a portare Fortnite Così posso giocare con qualcuno Ehm Magari Caricarmi questa Capisci dove Sul mondo rosso Caricarmi questa E poi domani Ne farne due Su Carmeccanic E portarmene da domani Domani sera Questa qua viene caricata sicuro Quindi, perciò, ragazzi Detto ciò Un bacio a tutti Ciao belli